Eccoci pronti! Che cosa mangiare? Bene, sano, la sera del Capodanno, quindi cenone di Capodanno. Tante cose oggi, quindi questa nostra puntata, sigla e poi vediamo, parliamo di discoteche. Eccoci prontissimi! Allora abbiamo detto che vogliamo parlare di musica, di DJ, di discoteche. Abbiamo una DJ eccezionale, Laura Cardarelli, buongiorno! Buongiorno! Eccola qua! Allora lei va a suonare un po' in tutta Italia, non soltanto, anche in Europa. E dove sarai impegnata? A Capodanno? Suonerai dove sei? A Capodanno, quest'anno per la prima volta farò un evento privato alle officine Farneto. Ah, e quindi sei a Roma? Sì, sarò a Roma e questo evento, insomma, organizzato da loro, però è privato, ci sono insomma varie cose che presentano in quella serata e quindi è una cosa più riservata. Tu hai una storia anche molto particolare, perché non è che nasci proprio come DJ, eh? No, no. Anzi, assolutamente, tu ti occupavi di altro, se non sbaglio, vero? Io sono un architetto e dopo vent'anni di lavoro, insomma, come architetto, mi sono cimentata nella musica che già conoscevo, perché l'ho studiata per tanti anni, ho fatto il conservatorio, ho insegnato pianoforte, ho fatto la scuola di jazz. Diciamo che la musica ha sempre fatto parte della mia vita. Parte della tua vita? Sì, assolutamente. Io la amo profondamente e mi sono... E poi sei arrivata alla console, quindi... Alla console. E poi ti vediamo all'opera, certamente. In una versione un po' diversa, ma insomma, comunque non... Però sempre musica, sempre musica, è anche molto bella. Ringrazio di essere qui Antonio Flamini, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi. Lui è SILB, ovvero Associazione Italiana Locali da Ballo, Intrattenimento e Locali da Ballo e quindi ci aiuterà a capire anche come essere in sicurezza in queste serate, dove magari c'è un po' più di Baldoria, probabilmente accade questo. Quindi voi siete molto attenti come associazione. Fate parte della FIPE, tra l'altro, quindi la Federazione Italiana. Sì, della FIPE, della Confcommercio. Esatto, FIPE, Confcommercio. Quindi assolutamente in pieno sposate la sicurezza in queste serate, c'è da dire. Oh, con noi c'è una grande persona, un grande DJ a Milano, lo vedo pronto. DJ Fargetta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Le ho fatto fare una corsa, perché prima le avevo detto che saremmo andati un po' più tardi, invece poi abbiamo cominciato prima. Eccoci qua. Però ti vedo prontissimo, eh? Sei un mattiniero? Non è un problema perché Milano in questi giorni è vuotissima, ovviamente, per le festività e quindi sono arrivato in un attimo. In un attimo. Ma, dicevo, sei mattiniero oppure con il lavoro che fai sei costretto poi a dormire la mattina e a lavorare la notte? No, sono molto mattiniero. Mi alzo sempre intorno alle sette e cerco di affrontare subito la giornata per vari impegni. Ma diciamo che si fa tardi il fine settimana, perché il fine settimana si lavora appunto nei locali, nelle discoteche e quindi si cerca di recuperare però tra la domenica e il lunedì e poi si ricomincia. Non sono un nottambolo. Non sei un nottambolo, è strano questo, eh? Perché, insomma, detto da DJ Fargetta, però effettivamente poi chi ha questo lavoro a un certo punto deve recuperare un po' i ritmi, no? Allora, a proposito di ritmo, se la nostra regia è pronta, vorrei farvi sentire di quello che vogliamo parlare oggi, no? Sentiamolo un po' con le nostre orecchie, andiamo in discoteca e vediamo che cosa accade con queste console. Vediamo un po'. Grazie a tutti. Allora abbiamo visto proprio solo un assaggio, perché devo dire anche un po' statico forse, perché succede molto di più nelle discoteche. Allora, quest'estate, io mi sono trovato in una serata dove c'era DJ Fargetta, a un certo punto, secondo me, è riuscito a far muovere anche i sassi. Ho detto, ma caspita, allora voglio venire da te, no? Perché voglio capire effettivamente, intanto il ruolo del DJ è cambiato, è sempre quello oggi oppure no? Il ruolo del DJ non è cambiato, comunque rimane un riferimento per chi è in pista e sta seguendo la sua evoluzione musicale. Diciamo che rimane sempre lì, dietro la console, se la vogliamo intendere come DJ da discoteca. Rispetto a prima, che tutti i DJ stavano dietro la console e facevano ballare il pubblico, adesso per essere un DJ completo devi anche diventare produttore delle tue tracce e delle tue musiche. Quindi, per essere al 100%, dovresti produrre la tua musica e quindi poi proporre la tua musica nei locali da ballo, come vogliamo chiamarle, o discoteche. Questa è l'evoluzione del DJ. Se vogliamo fare un riferimento al DJ della febbre del sabato sera, che siamo sempre stati abituati a vedere ai tempi della musica anni 70, dove il DJ stava dietro la console e faceva quello, adesso invece il DJ deve diventare un produttore ed è alla fine quello che sono pure io. E Laura, che ne pensi di quello che ha appena detto Fargetta? Sì, è vero quello che dice. Il DJ adesso lo utilizzano, tra virgolette, anche per altro, per fare un po' da PR. I DJ vengono chiamati nei locali perché hanno un loro seguito per portare la gente nei locali. Allora, su questo però, ecco, su questo ruolo di un pochino di cambiamento, stavi dicendo quindi? Che è un po', diciamo, porta un po' fuori pista dal lavoro del DJ, però fa parte del pacchetto, cioè ti chiamano, sì, assolutamente, ti chiamano nei locali anche perché porti un certo numero di persone, fai un po' da PR. Certo. Su questo mi viene da pensare, Antonio Flamini, la grande responsabilità che poi ha un'associazione come la vostra, ma più che altro in queste serate molto delicate, come può essere quella del Capodanno. Quindi voi avete sposato magari delle iniziative in particolare, cosa avete fatto? So che c'è stato un grande passaggio con il governo, vero? Proprio qualcosa di un passaggio governativo addirittura. Certo. Intanto, volo riallacciarmi al discorso del DJ, mi fa molto piacere che la figura del DJ appunto sia una figura non superficiale, come a volte si pensava o si pensi, ma di gente preparata che ha anche una preparazione musicale importante sia prima che dopo, perché Fargetta è diventato un produttore, quindi c'è tutto un discorso dietro a questa figura che per noi è sicuramente centrale e fondamentale all'interno dei nostri locali. Il riferimento che faceva riguarda il protocollo d'intesa che noi abbiamo firmato col Ministro dell'Interno e degli interni adesso c'è una ricaduta a livello nazionale che riguarda proprio la sicurezza, che è un aspetto a cui noi diamo un'enorme attenzione, la sicurezza dei nostri locali, la sicurezza dei nostri clienti, la sicurezza della notte in generale e che prevede una stretta collaborazione tra i nostri locali, i locali che fanno parte del Silva e della nostra associazione e le forze dell'ordine, quindi c'è grande collaborazione. È chiaro che la serata di Capodanno è particolarmente attenzionata perché è una serata unica, perché c'è una grande concentrazione di persone che sceglie divertirsi all'interno dei locali, anche se ultimamente la tendenza è quella di andare anche nelle piazze, quindi le città Roma, Milano, Napoli, Firenze, organizzano dei momenti importanti all'esterno, però la serata di Capodanno si divide in diverse tappe che cominciano dal cenone, la festa in piazza e poi magari si finisce in discoteca, qualche volta è tutto concentrato anche nelle discoteche, ma essendo una serata unica è molto delicata e noi mettiamo molta attenzione su questa serata. In passato sono state organizzate campagne come Capodanno Sicuro, Brindo con Prudenza, dove noi davamo una sorta di decalogo e dei consigli soprattutto ai nostri clienti per affrontare questa serata in sicurezza e non commettere errori, scegliendo magari dei luoghi che non erano idonei. La piaga del nostro settore è rappresentata per esempio dall'abusivismo che c'è, cioè di gente improvvisata in luoghi magari non adatti dove organizzano i trattenimenti e organizzareli al Capodanno è ancora più rischioso. Ecco, questo è un aspetto sul quale voglio tornare, magari è importante sottolinearlo perché a casa il messaggio deve essere molto chiaro. Vedevo anche Fargetta che annoiva no? Perché ci sono spesso situazioni che non sono così chiare e magari lì la sicurezza veramente non può essere garantita. La sicurezza è importantissima nel nostro lavoro e ha ragione perfettamente quello che diceva appunto sulla questione della sicurezza perché soprattutto a Capodanno, ma direi durante l'anno, ma soprattutto a Capodanno ci sono delle feste organizzate diciamo così all'ultimo momento senza le devute precauzioni. Certo che va sempre tutto bene, però quando succede qualcosa di grave e poi lì siamo sempre tutti pronti ad aprire gli occhi e ad intervenire. Bisognerebbe anticipare questa cosa, ma so che è difficilissimo. Capodanno è una di quelle feste a rischio. Allora, se intanto la regia gentilmente può preparare DJ Fargetta che sta all'opera e quando è pronto magari me lo dite, volevo con voi affrontare questo argomento, ovvero il fatto di essere, oggi si dice molto, si usa questo termine, influencer, ovvero grandi smuovitori di masse. Quindi avete la capacità, no Laura? Allora un DJ a mio avviso ha anche questo ruolo, cioè una grande responsabilità. È una grande responsabilità questa, assolutamente, perché le persone si affidano, hanno la propensione ad affidarsi a una figura appunto di riferimento che è il DJ, soprattutto in un momento particolare che è quello del divertimento. Quando la gente si diverte, si rilassa, si entra in un mood diciamo particolare e quindi la figura del DJ è importantissima. È proprio una responsabilità grossa, io me la sento tantissimo questa... È un trascinatore, nel bene o nel male, diciamo, perché poi... Esatto, perché nel momento del divertimento è comunque poi la gente si lascia andare. Certo. E Antonio Flamini, anche voi, vero, come associazione diceva, usiamo fra virgolette, i DJ proprio come veicoli, sbaglio? Certo, certo, spesso alcuni messaggi scegliamo che vengano trasmesse attraverso la voce del DJ, che rimane una figura sicuramente importante e un punto di riferimento per i giovani. All'interno della discoteca la console è un po' come se fosse un altare all'interno di una chiesa, passatevi un po' il paragone. E quindi il DJ è un comunicatore di musica, sicuramente, di messaggi, credo, positivi, perché il male io lo lascerei da un'altra parte. Diciamo, un momento del divertimento è un momento di benessere, in cui la gente si rilassa, si vuole divertire, in sicurezza. E qualche volta alcuni messaggi, per esempio quello del guidatore designato, cioè di colui che decide di accompagnare in sicurezza i propri amici a casa senza aver bevuto, noi lo abbiamo fatto trasmettere attraverso messaggi e dei lanci fatti appunto dai DJ, che hanno una grande presa sui giovani. E non solo sui giovani, perché le discoteche sono frequentate un po' da tutti. Ah certo. Fargetta, su questo appunto essere così dei smuovitori di masse, di giovani specialmente. La senti la responsabilità in questo senso, quando hai queste serate dove appunto ci sono infinità, una folla di giovani, dove c'è una folla di giovani? Ma sì, per fortuna c'è, poi ultimamente ci siamo anche ritrovati tutti insieme con i miei colleghi Albertino, Molelle e Prezioso, abbiamo fatto una reunion dove ci muoviamo tutti e quattro in situazioni di quasi festival, anzi chiamiamoli festival, dove appunto ci seguono tantissime persone. Il nostro messaggio è sempre quello, cioè farli divertire in quelle due o tre ore dove noi ci esibiamo e quindi dare positività e dare un sorriso con la nostra musica. Quindi quello che passiamo e che facciamo arrivare al nostro pubblico che ci segue è questo, è chiaro che poi rimangono tutti contenti. Il ruolo del DJ invece come influencer è sempre stato, è sempre esistito, anche trent'anni fa, perché comunque se andavamo o andavate a vedere un DJ in una discoteca di Milano o di Roma, comunque quello era il riferimento di quella serata e quindi era un influencer quella sera, quindi tutti rimanevano abbagliati dalla musica che questo DJ comunque faceva ballare perché era una musica particolare e quindi si distingueva dagli altri. Comunque in quel momento era influencer, poi i tempi sono cambiati, adesso ci sono i social e i social documentano invece quello che già i DJ facevano anche vent'anni fa. Ovviamente se parliamo di DJ esteri ci sono dei DJ di grossi nomi internazionali che già smuovevano tante folle, però probabilmente nessuno lo sapeva perché la comunicazione non c'era. Adesso invece si sa tutto di tutti e quindi diventano ancora più influencer e diventano veramente dei riferimenti. Dei grandi riferimenti sono. Allora vediamo un po' DJ Fargetta al lavoro, vediamolo un po'. Tutti insieme buon divertimento! Tutti insieme buon divertimento! Tutti insieme buon divertimento! Oh, 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 oh! Questo era solo un piccolo assaggio, vi facciamo vedere ovviamente soltanto dei piccoli assaggi, no? Però effettivamente Antonio Flamini c'è stata un'immagine adesso che io ho visto, no? Che abbiamo visto tutti insieme, ovvero c'era Fargetta, questa console e poi intorno a tutti questi ragazzi effettivamente l'idea proprio di stare lì a guardare, no? Così, in adorazione di qualcuno perché poi effettivamente è questo, cioè c'è una trasmissione, uno scambio proprio di energie, no? Certo, ma poi insomma si è visto chiaramente che Fargetta trasmetteva una sensazione di allegria, di euforia sana, di divertimento Esatto, che trasmetteva anche al pubblico che era davanti, che si vedeva insomma che era una situazione che proveniva appunto all'atteggiamento del DJ Per questo è importante anche il DJ per come poi si svolge il divertimento all'interno dei locali Laura, sul fatto appunto della scelta della musica, che questo credo che sia fondamentale Perché a un certo punto devi capire, intanto chi è il tuo pubblico immagino, no? Il target della serata ti dà l'ispirazione per il tipo di musica da mettere Infatti io non mi sono mai preparata delle serate prima proprio perché secondo me bisogna valutare le persone Io mi rendo conto che quando comincio a mettere musica da un aperitivo Già capisco in quella fase che la gente mangia, sta rilassata, chiacchiera, come si muove Già capisco che tipo di musica piace a quella di andare a mettere dopo Esatto, già capisco, già mi comincio a incanalare in un genere E poi durante la serata diciamo che è tutto... Senti però c'è una musica che torna sempre, che è quella poi degli anni 80, sbaglio Quella degli anni 80, funziona sempre E funziona anche tra i ragazzi giovani, tra i diciottenni Io metto un Rapper's Delight e assolutamente viene ballato proprio alla grande Ma questo perché? Qual è la chiave di lettura che ti dai? Perché per me la musica bella è... nei secoli dei secoli Per me la musica bella piace comunque E io per esempio pezzi anni 80 li mixo con pezzi nuovi Di uno stesso genere chiaramente, un po' fanchettoni mischiati con fanchettoni Però alla fine riesco a prendere tutti in pista Perché io metto il pezzo... quello di una volta Esatto, una volta con il pezzo nuovo e poi altri tre pezzi di... insomma Riesco a miscelare in un modo che poi alla fine piace Allora Fargetta, la scelta della musica è fondamentale Invece tu come ti poni? Cioè scegli appunto, capisci quale pubblico hai di fronte Oppure hai già una tua idea precisa, proponi quello ed è la gente che ti segue Si parte dal presupposto che al 90% delle situazioni che mi trovo di fronte Sono quelle dove io propongo la mia musica e quella devono ballare Non sto sicuramente proponendo musica tecno o tecnaus Sto proponendo una musica che abbraccia sicuramente tutti Poi in questo periodo già da qualche anno c'è un grosso ritorno Voi parlavate della musica anni 80 Ma forse il più grosso ritorno è quella della musica anni 90 Che è stato un decennio irripetibile per la musica Soprattutto prodotta in Italia negli anni 90 Quindi diciamo che quando arrivo in discoteca da me si aspettano un po' di quella musica Ma poi io metto anche qualcosa che ho prodotto ultimamente Perché diciamo che mi splitto da Fargetta a Get Far Che è il mio pseudonimo con il quale ho firmato le ultime mie produzioni Quindi faccio un po' di musica anni 90 e poi arrivo a quella moderna Ma in genere per rispondere alla domanda È che quando arrivo in discoteca io so quello che devo fare Lo faccio e la gente balla È chiaro che se metti una canzone o una traccia che non è recepita bene Diciamo la classica traccia dove tutti non si muovono Devi riuscire ovviamente con l'esperienza a recuperare Per farli o riportare in pista o comunque farli divertire Perché per un DJ la cosa più bella è vedere tutti con le braccia in aria che si divertono Ma non può essere sempre così Ma l'importante è tenerlo in pista Beh diciamo a voi capita spesso A te capita molto spesso Insomma quasi sempre Dai Lo dico io Non lo devi dire tu ovviamente Ma lo sappiamo Sulla sicurezza tornerei un attimo Perché locali da ballo Discoteche Intanto volevo capire una cosa Ho letto un dato Se non sbaglio Lei mi aiuti Antonio Flamini Che ci sono meno frequentatori di discoteche Possibile? Beh rispetto agli anni d'oro A cui si faceva riferimento per la musica Agli anni 80-90 Diciamo di sì Però in questi ultimi anni invece si è stabilizzato E sta crescendo la frequentazione nelle discoteche E' chiaro che rispetto a quegli anni lì Ci sono delle opportunità di divertimento diversificate nella notte Quindi ci sono anche altri tipi di locali dove i giovani si vanno a divertire Che prima non esistevano E quindi oggi fanno concorrenza alle discoteche Però diciamo che Oramai il livello di gente La quantità di gente che si diverte in discoteche Parliamo sempre di diversi milioni a settimana Quindi parliamo sempre di grandi numeri E' in crescita in questo ultimo periodo Collaborate molto con la polizia Perché credo che poi questo sia un connubio vincente E tra l'altro mi diceva ieri nella telefonata che ci siamo fatti Che per esempio, non so, i famosi buttafuori Le guardie che stanno lì nelle discoteche, eccetera Oggi sono figure molto preparate Così come i barman, è vero? Certo, no, no Una volta i buttafuori, diciamo, non avevano la preparazione che hanno oggi Intanto sono normati, quindi è una figura riconosciuta Devono partecipare a determinati corsi di formazione Fanno parte di lenchi prefettizi Quindi sono gente molto preparata Soprattutto nella prevenzione Di determinate situazioni di criticità Che si possono verificare all'interno dei locali Ma anche il resto del personale Cioè così come è importante il DJ all'interno della discoteca Sono importanti tutti gli altri componenti del personale di una discoteca Da chi sta alla porta, da chi sta all'interno Da chi serve bevande alcoliche Spesso il contrasto all'abuso di bevande alcoliche Viene proprio attraverso la figura del barman Che riesce a capire quando una situazione, diciamo, è al limite E quindi interviene E dietro a questo c'è una preparazione anche attraverso della formazione Per quanto riguarda queste figure E questo, ecco, l'importanza, sottolineiamo Di andare in locali riconosciuti, garantiti Perché altrimenti le norme di sicurezza possono sfuggire E questo, no? Questo è fondamentale Perché la garanzia della sicurezza riguarda la struttura Riguarda i materiali Ci sono delle commissioni di vigilanza di pubblico spettacolo Che autorizzano i locali e li controllano periodicamente Affinché vengano rispettate queste normative sulla sicurezza Il personale è formato Mentre invece spesso succede che in situazioni improvvisate Abusivo e irregolari Questo non avviene Allora, come diceva prima Fargetta Se non succede niente magari non se ne accorge nessuno Ma quella volta che succede Può diventare un problema serio per i clienti Ah certo Veramente serio Fargetta, siccome siamo in chiusura Allora intanto io vi auguro buon anno nuovo Dove sarà tra appunto il 31 e il primo gennaio? Guarda, sono anch'io a Roma come la collega Appunto con i miei amici del DJ Time Siamo al Palazzo dei Congressi Che sta in zona EUR Quella zona per l'occasione diventerà una zona chiusa di divertimento Dove con un biglietto potrai girare tre o quattro locali Dove succedono degli eventi Il nostro è al Palazzo dei Congressi Dove tutti e quattro cercheremo di fare Divertire il pubblico davanti a noi Per iniziare il 2018 bene Con un buon divertimento Speriamo che vada tutto bene Spero proprio di sì Ah quindi sei nella capitale Sarete nella capitale Poi DJ Time Quindi è proprio arrivata l'ora dei DJ Siamo Siamo lì Grazie davvero tanto di essere stato con noi Veramente preziosa la tua presenza qui a TG2 Lavori in Corso Grazie, auguri a tutti Grazie, buon anno nuovo Laura, anche a te veramente grazie di essere stata qui con noi Di averci così aglietato la mattinata per parlare di discoteche Perché spesso magari i genitori vedono questi luoghi di perdizione Invece sono luoghi di divertimento, sani Però ecco bisogna saper scegliere e saper dosare bene quello che facciamo Grazie Laura Caldarelli Buon lavoro Buon anno anche a te ovviamente Antonio Flaminni molto veramente efficace la sua presenza Perché volevamo puntare molto sulla sicurezza E credo che il messaggio sia arrivato Allora, però rimanete con noi Perché adesso non possiamo non parlare di cenone di Capodanno Laura Pintus, vediamo insieme A Capodanno si sa, non se ne può fare a meno Del resto zampone e cotechino sono per tradizione bene auguranti La patria di queste due eccellenze è Modena Dove ogni anno si svolge una festa Nella quale i giovani degli seduti alberghieri Si sfidano con piatti fantasiosi A base di cotechino e zampone IGP Capitanati dallo chef Massimo Bottura Gli zampone e cotechino sono nati nella storia Perciò dobbiamo risalire al 1511 E quando i mirandolesi videro che la città stava per cadere in mani avversarie E allora bene o male il loro bene prunario erano i maiali Non erano i soldi perché i soldi non esistevano poco Decisero di uccidere tutti i maiali Ma sorgeva il problema di come conservare la carne Papazzone che era il cuoco del duca dei picchi della mirandola Decise di metterla dentro alla pelle del piede ulteriore del suino E negli ultimi anni le caratteristiche di questo alimento sono cambiate I grassi sono calati del 40% Abbiamo segnato un più 1,5% quindi siamo in crescita Quest'anno ci attendiamo una cosa diciamo simile anche perché il freddo non manca E questi sono prodotti che molto legati alla tradizione si consumano soprattutto quando fa freddo Anche se noi adesso vogliamo dimostrare perché dati alla mano Si possono consumare anche durante tutto l'anno e anche in maniera ricettata E non possono mancare per la cena di Capodanno zampone e cotechino C'è chi li gusta durante il pasto Chi aspetta ad offrirli per il brindisi di mezzanotte Dopo insieme alle lenticchie comunque sono di buon augurio Ma come preparare un cenone che sia gustoso, saporito ma non troppo impegnativo E abbiamo chiesto aiuto al nostro chef Alessandro Circello che saluto a cui do il benvenuto Grazie Ci racconterà diciamo come rientarci visto che siamo in prossimità di Capodanno E poi invece per i golosi è veramente una mattinata concentrata perché forse proprio perché io sono golosa Ci sono tre maestri artigiani che sono utili a trovarci che parleranno di alcune specialità con tutta la loro storia e le tradizioni Saluto Federico Di Iorio che arriva da Avellino con i suoi torroni che vedete anche qui esposti Per i segreti del marron glacé di questa raffinatezza incredibile Invece do il benvenuto a Giulio Giuliani, una famiglia di tradizione anche questa E il panettone, il panettone del sud, quello di Nicola Fiasconaro che saluto, che è tornato a trovarci E che ci racconterà di queste materie prime incredibili che creano un panettone squisito Cosa cuciniamo? Allora a Capodanno prima di tutto abbiamo parlato di cotechino, come va preparato? Il cotechino di Modena IGP è un classico, io ho realizzato delle ricette Si può cuocere, l'importante è che si può acquistare o già precotto o il prodotto fresco Il prodotto fresco deve bollire, deve cuocere L'ideale è mettere degli aromi, io ho messo dell'anice stellato, delle scorse di arancia In modo proprio per dare ancora più gusto e cuocere un'infusione Un po' l'idea di cuocere un qualcosa in un tè o in una tisana E una volta cotto poi può essere dorato in padella Un po' come una cottura a bassa temperatura, no? Che adesso va tanto di moda nella cucina moderna Proprio per dare croccantezza nella parte esterna E abbinarlo a tutto tondo a qualsiasi ricetta Chiaramente un'ottima idea alle lenticchie Abbiamo le lenticchie di castelluccio Proprio anche per aiutare per un momento di difficoltà avuto dal territorio Abbiamo le classiche lenticchie decorticate Anche quell'arancione che danno un buon effetto cromatico Possiamo abbinarci alla crema Ma qui le vediamo passate? Sì, sono lenticchie arancioni decorticate Frullate, addizionato della zucca E poi la cottura del cotechino di moda IGP Fatta con l'anice stellato, del lauro e del rosmarino Quindi cotto in un liquido aromatico, un po' un brodo Per una mezz'oretta e poi dorato e scaloppato Un po' a modo di tagliata di manzo E quindi tanti aromi, tanti profumi Proprio per rendere ancora più digeribile Perché alla fine non è molto grasso Abbiamo sentito prima dal consorzio Sì, ultimamente i grassi sono molto inferiori Anche per il mangime che danno poi ai maiali È cambiato proprio il trend diciamo E poi si mangia due fettine Quanto ci vuole preparare questo piatto? Beh, il tempo di cottura prendendo il prodotto fresco Quindi partendo da un prodotto fresco Il cotechino deve cuocere almeno 50-60 minuti In questo liquido aromatico Se prendiamo quelli già precotti Basta soltanto andare a rigenerare in padella Proprio per rendere croccante E poi l'abbinamento può essere polivalente Ecco, sta bene anche una crema di ceci Magari con dei gamberi croccanti Quindi abbinare anche dei crostacei Sono ingredienti che poi sono ricette Che a tutto l'altro si realizzano Si può usare Chi è capace Qui vediamo una splendida natività Questo presepe delle feste Che ci ha portato il nostro Nicola Fiasconaro Dalla Sicilia, dalla zona delle Madonie Da Castelbuono Qual è la tradizione? Ma sembra che oggi finalmente Il panettone è stato sdoganato Insomma, è rimasto il mito meneghino E' rimasto il mito della cultura Anche piemontese e veneta Ma oggi è bello poter dire Che dal Trentino alla Sicilia Migliaia di panificatori E tanti bravi pasticceri Si fanno il loro buon lievitato da ricorrenza Io ho iniziato da ragazzo A quell'epoca mi prendevano per matto Fai le cassate, fai i cannoli Fai le paste di mandola Questo è il tuo patrimonio Eppure mettendo in questa cultura Di un dolce da ricorrenza Le nostre componenti I nostri ingredienti I nostri aranci Il pistacchio Piuttosto che gli agrumi in genere L'uva sultanina Che inebriamo con marsala superiore O zibibbo Avviene qualcosa di molto accattivante E oggi il nostro panettone È abbastanza Come dire È un panettone caratteristico Non soltanto in Sicilia O in Italia E che vendete tutto l'anno? Siamo fra l'altro riusciti A destagionalizzarlo Questa è stata una sfida Ancora più ardua Ovviamente i numeri di produzione Durante l'anno ricorrenza Sono molto più limitati Ma d'estate Si viene a Castelbuono Quindi accanto a Cefalui In questa piazzetta Di questo paese medievale E tutti vengono ad acquistare I turisti che vengono in Sicilia A Castelbuono Il panettone come souvenir Se lo portano come cadeau E lo portano in tutto il mondo È una cosa molto bella Passiamo ad un'altra storia Sempre del sud Si parla di torrone Si pensa sempre un po', no? A Cremona Al nord Eppure è addirittura Dal 1700 Che la sua famiglia I suoi avi Producono torrone Così? Sì La mia famiglia In provincia di Avellino In un piccolo paese Che si chiama Dentecane Che è anche un nome Un po' curioso Produce torroni Produce torroni Quindi da 111 anni Prima dell'Unità d'Italia E che tipo di torroni sono? Che materie prime utilizzate? Qui li vediamo su questo tavolo Sono splendidi Il torrone Noi produciamo torroni In una zona che era abbondantemente Come dire Ricca di nocciole In una zona dove c'era il passaggio Della transumanza Che veniva per il collegamento Di due mari Quindi Martirreno E Mar Adriatico E quindi avevamo anche abbondanza Di mandorle Motivo per cui Tutti i nostri torroni In realtà sono fatti Sia con mandorle Che con nocciole Rigorosamente Delle nostre terre E in aggiunta poi Con il nostro miele Stiamo vedendo questa splendida Lavorazione Sì È meraviglioso Soltanto a vedersi I macchinari Sono macchinari Che avete recuperato Visto la storia? Sì Vede Noi ci abbiamo tenuto A conservare La nostra tradizione Sia nella scelta Delle materie prime Che sono quelle assolutamente Di un tempo Ma anche E soprattutto Anche nel mantenere Come dire Un filo Con quello che avveniva Nel passato Anche dal punto di vista Dei macchinari Ed ecco che voi state notando Che il nostro torrone Infatti viene cotto In delle torroniere Che hanno ancora La bacina di rame La rame Così come potete notare Che sui tavoli C'è la pietra Di marmo Il granito E gli stampi Sono di legno Quindi cerchiamo Di fare un po' Le cose come avveniva Nel passato Non è un torrone Che viene raffreddato Nei tunnel frigoriferi Non è un torrone Che viene rullato Negli stenditui Ma è un torrone Che viene rigorosamente Cotto Nelle vecchie bacine Di rame Negli anni 50 Del novecento È un torrone Che subisce un processo Noi la chiamiamo Lenta lavorazione Facciamo una lavorazione Molto lenta Lo facciamo raffreddare Lentamente Proprio per cercare Di evitare Di rovinare Quegli alveoli Che si creano internamente Che poi ci danno Una gran friabilità Qui vediamo La variazione al cioccolato Ma in realtà In fondo c'è Mandorla, miele Albume, d'uovo Non è così Non è grasso In fondo Il torrone Si potrebbe Calorico è però Vedi oggi è stato Anche rivalutato Come tipo di prodotto Nel senso che Molti dietologi Dicono che All'interno di una dieta Se proprio Dovete mangiare Un dolce Mangiate il torrone Perché è Si calorico Ma non è Ricco di grassi Quei famosi grassi Che poi si attaccano Le arterie Perché se noi andiamo A guardare Il torrone De cosa è composto È composto Da frutta secca Che pare che faccia bene Almeno tutti così dicono È dal miele Miele e zucchero Quindi non ci sono Altre sostanze ambigue Non ci sono grassi vegetali Idrogenati Non ci sono Quelle famose sostanze Che insomma Oggi sono un po' Messe all'indice Poi è un dolce Che si ricorda La notte dei tempi Che non ha mai Fatto male a nessuno Che addirittura Lo si può mangiare Anche oltre scadenza Perché Il peggio Che potrebbe succedere È che una mandorle È andata male Adesso Giulio Raccontiamo qualcosa Della tua famiglia Ma prima Voglio vedere insieme Questo servizio Per capire Qual è l'arte Incredibile Del marron glassé Raffinatissima Faccio Tapirula I dorsali I flettorali A 90 anni compiuti Il signor Giulio Non si fa mancare Un'ora di palestra Ma la sua buona forma È dovuta anche Alla passione Per una prelibatezza Che lo accompagna Da quando di anni Ne aveva 20 E andò in Svizzera Per imparare l'arte Del marron glassé E mangiare Minimo uno al giorno Tradizione la cui origine È contesa Tra piemontesi E francesi E che dall'Ottocento Ha trasformato Quello che era Il pane dei poveri In una raffinatezza Unica Tra le curiosità Non tutti sanno Che l'attrice Lucia Bosè Da ragazza Era commessa In un negozio Di marron glassé Di Milano Quando fu notata Dal regista Lucchino Visconti Che le suggerì Di presentarsi A Miss Italia A concorso Che vinse Nel 1947 Mentre è nel 49 Che nasce a Roma La fabbrica Del signor Giulio E finora Nessuna telecamera Era riuscita Ad entrare Nel laboratorio Dove vengono custoditi I segreti Della trasformazione Dei marroni Abbiamo visto Nonno Sprint Giulio Stesso nome di nonno Esatto E continui La tradizione Insieme anche a papà Della lavorazione Del marron glassé Io sono la terza Generazione E sto continuando Ormai da parecchi anni A far crescere La nostra azienda Anche tu mangi un marron glassé Al giorno Per arrivare come nonno A fare palestra Esatto Abbiniamo un marron glassé al giorno E un'ora di palestra al giorno Quindi insomma Ci manteniamo E si Continuo A questa tradizione Ormai da parecchi anni Con l'aiuto Della mia famiglia Di mio padre Di mia madre Di miei cugini Cerchiamo sempre Cerchiamo sempre di rinnovarci Del calore E anche una misurazione Dello zucchero All'interno Di queste grandi vasche Quindi partiamo Da uno zucchero Molto basso Fino ad arrivare A una A una Precisa Temperatura di zucchero E a quel punto Quando arriviamo A quella Temperatura Il frutto È candito Quindi vediamo Che è stato L'ho visto lavorare Uno a mano Da delle mani sapienti Che li stringono Perché? Che cosa si fa? Sette giorni Dove appunto La canditura È terminata Le nostre Ragazze Prendono Uno per uno I marron glassé Li compattano Li inseriscono In delle griglie E infine Vengono glassati E sfornati Per pochi secondi Nel forno E questa glassa È appunto Inserita sopra Il marron glassé E messa nel forno Dà questo effetto Traslucido Al marron glassé Io sono entrata Nel vostro laboratorio E c'è un profumo Incredibile Questi marron glassé Escono lucidi Esatto Splendidi Esatto E questo appunto Deriva da un Effetto traslucido Che dà la glassa All'interno del forno Alessandro Andiamo un po' Ritorniamo al cenone Di Capodanno Un'altra ricetta Che ci puoi dire Magari abbiamo parlato Di carne Di pesce Che cosa possiamo fare Un baccalà Che cosa Ci puoi raccontare Beh il baccalà Rientra nei classici Di tradizione C'è chi lo fa fritto L'importante è anche fritto In olio extravergine Di oliva La temperatura giusta Può essere un prodotto Fatto bene Perché poi alla fine La temperatura È il prodotto Trattato nel modo giusto Che fa la differenza Io ho pensato A un baccalà Abbinato Un classico Per dire Con delle arance Possiamo mettere Della mela grana Quindi sgranata Emulsionata Al momento Che sono tutti elementi Rosso Beneagurante Abbinato con delle olive E tante erbe aromatiche Perché il baccalà Già è salato Quindi possiamo mettere Il timo La maggiorana L'erba cipollina Quindi può essere Quindi si fa una base Piuttosto semplice Che tutti riescono a fare Il baccalà come va cotto Il baccalà L'ideale è cuocerlo A una temperatura bassa Quindi in acqua aromatizzata Si spenge la fiamma E si mette la monoporzione Di 150-200 grammi In questo modo Rimane morbido Lo possiamo fare A fiamma spenta Oppure a fiamma Leggermente accesa E poi lo serviamo Si un'insalatina di finocchi Di arance Mela grana Tante erbe aromatiche Questo può essere Un antipasto semplice Per Proprio per il cenone Di capodanno E possiamo abbinarci Possiamo farlo anche fritto Per dire Passato con Una semola di grano duro E fritto a 170 gradi Non resta Avergine di oliva L'importante è Non far raggiungere Il punto di fumo all'olio Sennò poi Un prodotto buono e sano Può far male Può diventare dannoso Un po' di frutta secca Per dire A parte che ce n'è tanta Però ecco anche le mandore In questo caso Le buone mandore Stanno bene Ecco magari Nicola Le cucina Sono dolci Da ragà Intanto papà È stato un cuoco A quei tempi Si diceva La banchettistica Il buffet Oggi è il catering Lui iniziò Nelle madonie A fare i matrimoni A fare una festa di laurea Insomma Un battesimo Quindi anche nella cucina C'è una cultura Della famiglia Fiasconaro Negli ultimi anni Per esigenze Perché questo tsunami Del panettone Abbiamo dovuto Tralasciare Abbandonare Quello che per papà È stato un po' Il suo cavallo Di battaglia Ma voglio dire Ci gioco anch'io A casa O per gli amici A fare qualche cosa La preparo Con piacere Quando posso Come no Diciamo quali sono Gli ingredienti Che dovrebbero esserci Anche secondo il disciplinare In un panettone Visto che ce ne sono tanti in commercio Di vari tipi Però in realtà Esistono degli ingredienti Che non devono mancare Devono essere quelli In modo che Quando andiamo a leggere le etichette Siamo un po' attenti C'è un disciplinare Dell'Aidi Che è la confederazione Del comparto industriale Del dolciario Del 2005-2006 Questo disciplinare Prevede Anche se Negli ultimi due anni C'è una forbice Un po' Si è un po' Allargata Questo rigore Un po' Si sta perdendo Perché si può Chiamare un lievitato Con fecole Quindi senza Senza il frumento Si può chiamare anche panettone Sono esigenze Delle grandi industrie Quindi non mi permetto Di dire se è giusto o meno Ma il panettone È maglia glutinica E che forza Deve avere Questo po' Di grano Perché poi Il burro di panna Che è l'altro componente Più importante Il burro di panna Di affioramento 82% libero Deve essere Esagerato Quindi il panettone Da pasticceria Abbastanza grasso Mangiarne poco Anche perché il costo È più importante Di quello Di quello industriale Uova Va a 30-40 euro Al chilo Le uova fresche Pastorizzate Di categoria A E di stato brado Questo prevede Disciplinare C'è L'azienda Che riesce Questi parametri A portarle avanti Non dimentichiamoci Che noi stiamo subendo Un trauma Che da un anno Il burro è impazzito Lo compriamo Tre volte tanto Il burro di panna È cresciuto molto Il prezzo del burro Per varie motivazioni Che non stiamo qui A spiegare Ma nonostante Questo L'evitazione A dismisura Del costo Dell'elemento fondamentale Del panettone Quindi del burro Ci vuole quello buono In quantitativi Importanti E poi gli aranci Poi l'uva sultanina Però sbaglio L'ultimo nato Ha qualcosa a che fare Con il marron glasè Ma è infatti Quando ho visto Questo meraviglioso documentario Che è un dolce complicatissimo Il marron glasè Oltre che ti richiede Almeno 8-10 giorni Per fare un ottimo marrone C'è la cultura piemontese Che io ho adottato Fra l'altro C'è questo gemellaggio E questo omaggio al Piemonte Ma ovviamente Gli svizzeri I francesi Insomma Per dirle in breve Il marron glasè Non c'è pasticceria Di livello importante In tutto il mondo Dove non trovi un bel vassoio Di marron glasè Sicuramente È un dolce raffinato È un dolce raffinatissimo Un prodotto Che non ci appartiene Culturalmente in Sicilia Ho cominciato a giocare Ed è nato L'ultimo parto Fiasconaro E abbiamo delle due Immagini Ancora gli manca Quella verba Quella cattiveria Perché appunto È un prodotto Che non Non è la mandorla Non è appunto Gli agrumi Che giochiamo in casa Ma è una materia La prima affascinante È la castagna In questo caso Quella piemontese Di Venasca Siamo nel Cunense E pare che stia anche Andando bene Questa ultima creatura Fiasconaro Marron glasè E cioccolato Quindi Insomma Non male direi Sono 18 gusti Che facciamo Di lievitati Ed è affascinante Dire che oggi Nel mondo Adesso c'è il Sige Paggennai A Rimini L'anno scorso Il panettone Eccolo Lo stiamo vedendo La preparazione Di questa puntata Sul 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 Tiramisu È l'ambasciatore Il dolce Simbolo italiano Nel mondo È il panettone italiano Questa cosa Quindi per chi lo produce Da pasticcere Ti inorgoglisce Ti faga davvero Grande piacere È certo Federico C'è una storia particolare Voi avete quasi Un archivio storico Di famiglia Visto Viste appunto Le origini Le radici Così vertiche Ma come si Ordinavano Un tempo I torroni Non c'era internet Il telefono Neanche Parliamo Di secoli fa Beh questa è una delle cose Che Chi ci viene a trovare Nel nostro Negozio storico Di Dentecana Poi Molto spesso Restano affascinati Proprio Tra le tante cose Che vedono Che sono un po' I cimeli del passato Le onoreficienze E quant'altro La cosa che più Li colpisce Poi è proprio Questa cartolina Perché Nessuno si chiede mai In passato Si mangiavano dolci Un po' Davertutto Ma come Li si ordinava E noi abbiamo Conservati E messi In delle teche Quindi appesi Al muro Delle vecchie cartoline Degli anni Trenta In cui Se le si va A girare Dal lato di dietro Troviamo L'ordine di Torrone In buona sostanza Che cosa facevano I miei avi Il mio bisnonno Spediva Questa cartolina A questo Ipotetico Cliente Che si trovava Nei posti Più disparati D'Italia Infatti Quella che abbiamo esposta È in provincia di Brescia Un'altra è San Candido Alta Pusteria E Lui spediva La cartolina Al cliente Il cliente La riceveva Dopodiché Dietro alla cartolina Segnava L'ordine di Torrone E poi Ci rispediva La cartolina E quindi Mio nonno Il mio bisnonno Aveva questo Io mi chiedo sempre Quanto tempo Ci impiegava Sto torrone Per arrivare Natale Poteva passare Capodanno Poteva passare A Befana pure Che poi La cosa pure Molto bella Che c'era qualche cliente Anche molto pignolo Che ne abbiamo una esposta Di questo cliente Si era conservato L'incarto Dell'anno prima E quindi Il fare l'ordine Dice Testualmente Di della cartolina Prego mandarmi Chilogrammi 15 Di torrone di mandorla Ciascuno senza astuccio E Allega Insomma Messa incollata Alla meno peggia C'è questa cartolina La striscetta Dove c'è Indicato Il tipo di torrone Che lui Aveva acquistato Probabilmente L'anno prima Questo è uno Dei tanti aneddoti Ma l'abbiamo visto Tante nella mia famiglia Insomma dal 1700 Facciamo questo Quindi Due guerre Due o tre guerre L'abbiamo visto Insomma un po' di cose Brigantaggio Di tutto di più Brigantaggio Sì Mia nonna Fu fermata Dai briganti Perché prima Si usava Andare per le feste Di paese A vendere i torroni Che poi era L'unico dolce Dell'antichità Che oggi Abbiamo i panettoni Abbiamo tutti questi dolci Importanti Conosciuti Però il dolce povero Era proprio nelle fiere Il dolce che c'era dappertutto E che abbiamo da duemila anni Tant'è vero che lo ritroviamo In Sicilia In tutti i paesi Di Vieraschi Cipo di strada Sì Era il torrone Il torrone era il dolce Che si mangiava un po' dappertutto E i miei nonni Lo andavano vendendo In giro per le feste E una notte Mia nonna fu fermata Dai briganti Le rubarono il torrone? No Perché quando videro Che aprì questa cassa Che aprì questa cassa Che c'era un sì di torrone Dice Lasciala andare Questa è la moglie di Federico Questi vengono per le feste Che allietavano le loro feste Insomma No il torrone non si tocca No Infatti diciamo Il torrone salvò Salvò mia nonna Alessandro Come possiamo concludere Questo percorso Che ci hai indicato In un cenone di Capodanno Parliamo di dolci Tanto ne abbiamo parlato poco Continuiamo Pandoro, panettone Che cosa faresti? Beh qui la pasticceria da cucina Che poi alla fine La pasticceria è una scienza esatta In cucina noi siamo un po' approssimativi Col quanto basta Invece in pasticceria è tutto rigoloso Qui mettere dei dolci è superfluo Perché sotto la tradizione Il panettone Il pandoro I torroni Sono protagonisti Chiaro Si possono fare tante altre ricette Ma già l'apporto calorico qui Se non sbaglio non manca Io ho preso Diciamo Il panettone Un pandoro Che rimane Magari a volte anche conservato male Semplicemente grigliato Su una padella Antioaderente In modo che andiamo a scaldare A rendere ancora più croccante Un po' i grassi In questo caso ho usato Il panettone Non so se Il pandoro Non vorrei Penso che poi c'è tutta una triativa Sul pandoro Il panettone Ho usato quello Perché essendo un po' più grasso Il pandoro Ti dà quell'effetto croccante Quella crosticina Messo con una crema all'anice Tanti frutti rossi Benaguranti Che poi I frutti rossi Sono antiossidanti E qui potremmo mettere anche Della frutta secca Il torrone Tutto sommato Ecco magari Come la frutta secca Mangiata mezzo chilo al giorno Sotto le feste Chiaro fa un po' male Però dilazionata durante l'anno Secondo me È la scelta vincente Di una sana alimentazione Anche perché ci sono Tanti oli essenziali E la frutta secca Ha tante virtù benefiche Anche in questo caso Il torrone E sopra Potremmo mettere anche Del torrone sbriciolato Quindi un'idea Di un pandoro grigliato Con una crema all'anice Utilizziamo tutto anche Dopo le feste Quindi possiamo mantenere La ricetta tra l'altro È bellissima Si presenta anche molto bene Allora noi speriamo Di avervi dato Qualche spunto oggi Per le prossime cene Le prossime feste Che passerete insieme Con gli amici In famiglia Saluto i nostri ospiti Ringrazio tutti A partire da Alessandro Circello Federico Di Iorio Giuse Giuliani E il nostro Nicola Favia Sconaro Buon ritorno Nelle vostre regioni E auguro Buone feste a tutti Cara Laura Altro che qualche indicazione Ci avete dato Per il cenone Di Capodanno Faremo Proprio il pieno Di zuccheri E poi però Il nuovo anno Dobbiamo andare più leggeri E ovviamente Come sapete Noi poi spesso abbiamo Queste nostre rubriche Star bene Quindi daremo tante indicazioni Anche a voi A casa Io però voglio approfittare Veramente Rubo 30 secondi Perché voglio Farvi gli auguri Di un buone Fine anno Di un buon inizio 2018 Che sia Veramente per tutti noi Di pace e serenità E più che altro Passatelo anche Buttando un occhio A TG2 Lavori in corso Ovviamente Quindi adesso Come sapete Noi vogliamo Immediatamente Dare la linea Al TG2 Flash Dove vedo già pronta Francesca Romane Di 6 Vi auguro nuovamente Buon fine anno E buon inizio Di 2018 E permettetemi Di ringraziare Anche tutto il nostro Riparto di trucco e parrucco Perché ci rende piacevoli La mattina ovviamente Grazie davvero Per il lavoro che fate Tutta la redazione Di TG2 Lavori in corso C'è un grande lavoro Perché noi mettiamo La faccia Ma poi c'è chi Lavora tanto dietro Grazie veramente A tutti Allora Buon anno nuovo Ci vediamo con il nuovo anno Nel 2018 Adesso io vi auguro Buon weekend E ci vediamo lunedì Ovviamente Alle 10 puntuali Adesso TG2 Flash Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti